Il sabato contro la Stella Rossa sarà una partita sicuramente molto nuotata, molto intensa, loro sono una squadra abbastanza giovane, vorranno dare il massimo, a fine chiunque gioca contro la Proreco si vuole sempre mettere in mostra, sicuramente sarà una partita, come ho detto prima, intensa, come tutte le partite di Champions League, è una competizione che tutte le squadre vogliono onorare. Siamo bene, penso che siamo in linea con l'idea dell'allenatore iniziale, stiamo lavorando molto, Sandro è arrivato a inizio stagione, ci ha subito fatto capire quello che vuole da noi, le sue idee, noi siamo tutti ragazzi intelligenti, lo seguiamo, ci alleniamo tanto, forte, quindi siamo pronti e preparati a questo mese. Vogliamo e dobbiamo difendere il titolo, sicuramente c'è Novi Beograd che è una squadra nuova, però che ha investito sulla palla nuoto, c'è l'Olympiagos che sono anni ormai che dimostra che sta a alto livello, ha fatto due o tre acquisti importanti, il Barceloneta resta sempre una squadra di qualità, la palla nuoto può, soprattutto nella finalità di Champions League può succedere qualsiasi cosa, quindi noi non dobbiamo assolutamente sottovalutare qualcuno, pensare che uno sia più forte dell'altro e giocare al 100% contro tutti quanti.